Bentornati su MyFootballJersey. Torniamo in Argentina a prevedere questa bellissima maglia del Bocaa Junior. Questa è la seconda in edizione fan. Vi ricordo che l'edizione fan è quella un po' più comoda, pensata per i tifosi. Grazie a tutti. Bello il colore di una delle maglie più blasonate, più famose del Sud America. Sicuramente una maglia che mi piace molto, fatta molto bene. Il costo, lo vedete qui sopra, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Se volete maggiori dettagli trovate i riferimenti qua sotto, in descrizione. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari. Quindi il costo di prima diventa ancora più basso. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però iscrivetevi al canale. È un piccolissimo gesto che ci aiuta però a mostrarvi maglie come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.